Da più di 40 anni, ANASF connette i consulenti finanziari italiani. Ogni giorno sosteniamo e rappresentiamo un network di oltre 12.000 professionisti del risparmio. Anne e Marco ci hanno scelto come i loro consulenti per affiancarli nelle decisioni finanziarie. In ANASF crediamo nelle connessioni. ANASF, Associazione Nazionale Consulenti Finanziari. Marco, ma il nostro consulente è iscritto ad ANASF? Certo. Dai, torna a dormire. Ah. Grazie.